Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torrecampana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Team Reverse. Ragazzi, negli scorsi video avete lasciato davvero una tonnellata di like, vi è piaciuta davvero tantissimo questa idea. Quindi ragazzi, vi chiedo fin da subito, come negli scorsi episodi, di raggiungere i 400 like, perché sì, abbiamo raggiunto 400 like e mi avete reso veramente felicissimo. Quindi proviamo a farcela anche quest'oggi per continuare sempre alla grande con questa serie che non usciva da quasi due mesi. Quindi fatemi vedere che ancora la volete, che la volete di nuovo, che la volete più spesso, con un bel mi piace. Detto ciò ragazzi, quest'oggi andremo a riprodurre al contrario alcune team molto particolari e ragazzi, c'ho una chicca alla fine, che secondo me potrebbe veramente rivelare delle sorprese incredibili. Ma per ora non ve la spoilero, oppure potrei averlo fatto nel titolo? Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, vi invito ragazzi a scrivere qui sotto nei commenti però una canzone che vorreste vedere remixata al contrario, magari anche non una canzone esclusivamente di tema creepy, ma anche banalmente una qualsiasi altra canzone, visto che comunque stanno finendo quelle creepy. E nulla, direi di non perderci in ulteriori indugi e di andare ad ascoltare subitissimo la prima canzone riprodotta al contrario. Questa canzone che sto per prendere ragazzi, è una canzone molto particolare, direttamente dalla seconda, nonché dalla quarta generazione. E ragazzi, sto parlando della team delle cazzo di rovine alfa. Sapete quanto sia inquietante quella canzone? Quasi più che inquietante e misterioso, sarei dire. Ma adesso andremo a vedere come suona al contrario. Quindi, signori, rovescia. Ed eccola qua. Oddio, 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 che figata. Mi sembra quasi il mondo distorto talocco. Senti, è arrogantissima, mi piace un botto. È molto più inquietante delle altre. Mamma mia. Wow. Questa potente, non mi aspettavo così tanto da questa, al contrario. Invece, cavolo, spacca. Senti, tipo, sembra quasi dei violini di sottofondo questi qua, ma stradi storti. Che roba. Bellissimo, raga. Perfetto. Ora, vediamo se arrivati alla fine cambia qualcosa. Ma non penso. Arriviamo fino a 1,15 e poi stoppiamo. Bella, bellissima, raga, questa al contrario. Anche la melodia è stra particolare. Wow, fermi. Tra l'altro è finita, perché ho scaricato la versione corta a sto giro. Wow. Wow, 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 wow. Oddio. Mi è piaciuto un bordello. Mi è piaciuto un bordello. Manteneva le sonorità più o meno dell'altra, però cambiavano le note. Sentite questo, questo inizio proprio. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 è bellissimo. Mi piace un casino. Poi dopo qua partono sti violini qua. Sentite. Bellissimo, raga, mi è piaciuto un casino. Questa meritava proprio. Questa meritava proprio. Fatemi sapere, anche nel sondaggio, ovviamente, qui in alto a destra, non l'ho specificato, quale tra queste canzoni è quella che vi ha suscitato più timore, o comunque in generale è quella che vi è piaciuta di più. Detto ciò, ragazzi, direi di proseguire con la prossima canzone, che è una canzone, anche questa, molto, molto particolare, ma non è quella di cui vi parlavo a inizio video, bensì direttamente da Rubino e Zaffiro e anche Smeraldo, per dirla tutta, abbiamo la team della siccità. Questa, ragazzi, è già stra-inquietante di suo, per quanto non ci sia moltissimo di inquietante nella scena in sé. Secondo me spacca tutto. Adesso la mettiamo a reverse e prepariamoci perché potremo veramente assistere a delle cose assurde. La prossima canzone, ragazzi, poi sarà ancora più particolare, vedremo che cosa verrà fuori. L'ho scelta perché penso sia una delle migliori team dei giochi Pokémon. Detto ciò, rovescia. Eccola qua, eccola qua, ce l'abbiamo. Signori, via! Oddio! Oddio, ma sto male! Sto malissimo! Non cambia, praticamente. Ci sono solo delle interferenze strane di sottofondo. Oddio! Oddio, cos'è sta roba? Che roba disturbante! Oh, Gesù! Ah, no, da fastidio! Da stra-fastidio sta cosa! Da un fastidio della Madonna, Dio mio! Che fastidio! Madonna! Però l'inizio era uguale! E poi c'è questa interferenze orribili di sottofondo che mi fanno salire il nazismo. Sentitele, sembra quasi un... Non so, una TV... Ecco, una TV che non ha segnale, sembra quasi. Bellissimo, raga! E la melodia è praticamente la stessa, tra l'altro. Assurdo! Assurdo, non me lo sarei mai aspettato. Eccolo, sto pezzo qua è stra-fastidioso, raga, mamma mia! Penso sia ancora più disturbante di quelli che avevamo ascoltato negli scorsi episodi. Penso che sto pezzo qua sia davvero fastidioso. Peggio di Lavandertown, secondo me. Ah, brutto, 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 brutto. Stoppa, stoppa, stoppa. Ok, perfetto. Mamma mia! Questa, questa, raga, è stata veramente tanto disturbante, ma tanto, signori! Cioè, io non vorrei dire, ma questo pezzo qua dovrebbe essere questo... Ecco, qua parte veramente con una sovrapposizione di suoni acuti, che no, stoppa per piacere, che dà un fastidio a una madonna. Però volevo porre l'attenzione su questo fatto. Cioè, ascoltate qua. La canzone è al contrario, effettivamente, a meno che io non abbia sbagliato qualcosa, ma l'ho messa assolutamente al contrario. E adesso, se noi la rirovesciamo dall'altra parte, dovrebbe essere praticamente la stessa melodia, se non sbaglio. Ed è una cosa particolarissima, secondo me. Cioè, ecco, questa qua è la versione normale. È meno distorta, ma sentite che la melodia è la stessa. È incredibile sta cosa. Questo pezzo qua, ad esempio, è molto meno disturbante. Però la melodia è uguale all'inizio. Infatti, ci sono rimasto male. Per un momento ho detto, minchia, ma stoppa, non l'ho messa al contrario, sono stupido. Invece poi, dopo che è partito l'altro pezzo, ho detto, ok, perfetto, no, l'ho preso in culo. Ah, ragazzi, prima di continuare, volevo specificare una cosa che evidentemente non a tutti è chiara. Questa serie non è caratterizzata dal fatto di ascoltare in sé le team di sottofondo. Perché, forse solo per quello, potremmo farlo tutti a casa nostra con i nostri programmi. L'idea è invece quella di fare una reazione, cioè il video è una reazione, non è tanto un riproduci le team al contrario. Il succo del video è questo, in tantissimi mi dite cosa parli di sottofondo mentre ci sono le canzoni, non devi parlare. Invece sì che devo parlare, perché è il senso della serie, cioè la reazione alla canzone è il senso della serie. Perché la canzone, al contrario, possiamo riprodurla più o meno tutti se scarichiamo il programma giusto. Invece la reazione è qualcosa di più particolare, più caratteristico, visto che comunque, cioè, non sto mettendo in mostra semplicemente le canzoni, ma anche una mia reazione. E il video serve anche per intrattenere in altre maniere. Ci tenevo a precisarlo perché non per tutti è chiara questa cosa. Fatta questa dovuta precisazione che avrei dovuto fare a inizio video, direi, ragazzi, di andare a prendere la terza canzone. Ora, io non so che cosa succederà, non ne ho idea, ma ero davvero tentato di provare a riprodurre al contrario, cosa ho detto prima? Dicevo, sono davvero tentato di riprodurre al contrario, la team di Ultra Necroz, ma in poche un'ultra sole e poche un'ultra luna. Sono veramente curioso di vedere che cosa viene fuori. La team di battaglio, ovviamente, sapete tutti come fa la canzone, anzi, ve la metto subito. Ecco, ora, al contrario, come suonerà? Ok, perfetto, la stiamo rovesciando. Ho veramente paura di sentire che cosa potrebbe venire fuori. Potrebbe venire fuori la cosa più bella del mondo come la più grande stronzata del secolo. Lo scopriremo. Oddio, dove è sta roba? Cos'è sta roba? Eh, lo c'è in giù. Ah, è il casino. È il casino. Di sottofondo si sentono tamburi, cose che volano, distruzioni, morte. Oh, Gesù Cristo. Madonna. Oddio, cos'era sta roba? No, vabbè. È un casino. Raga, cos'è? È bellissimo. Al contrario, è bellissimo. Ha una melodia, secondo me, fantastica. Ricorda quasi le canzoni di Diamante Perla per melodia. Quarta Gen Confirmed. Tra l'altro è altissimo. Mi sta fracassando le orecchie. Oh, Gesù. Le melodie sono fantastiche, raga. Sono veramente bellissime. Poi c'è tipo questo vento di sottofondo, quasi. Mamma mia. No, ma stra-triggerato sta cosa. Sono triggeratissimo. Sono triggeratissimo. Ora va avanti così per un po', penso. Questo pezzo qua volevo riascoltare un attimo. Sentite? Wow, che cos'è sta cosa? Oddio. Ma è stra-inquietante. Come attacca, poi. Questa qua è la parte finale, forse. Aspettate. Wow. 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 Questa melodia è stra-curiosa. Vado, è stra-curiosa. Mi è piaciuta un casino. Questa penso sia, secondo me, la più strana, ma al contempo la migliore che ci sia tra queste. Perché è veramente stata stupenda, secondo me. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito, ovviamente, a lasciare un bel mi piace, un commento in iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, raggiungiamo i 400 like per continuare questa serie, che so che vi piace davvero tanto. Fatemi vedere che a distanza di due mesi non è scemate, diciamo, questa vostra passione per questa serie. Lasciando un bel mi piace, commentate, consigliandomi altre canzoni, comunque, che poi i vostri consigli li ascolto sempre, riguardanti, per l'appunto, il mondo Pokémon da riprodurre. Al contrario, votate nel sondaggio la migliore, così mi farò una bella stima su quello che pensano i miei iscritti. Passate anche dai social, mi raccomando, e premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.